Salve a tutti ragazzi, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi di iscrivervi al mio canale e di lasciare un like. Sigla! A base di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation sotto la guida di membri della Foxhound. Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armstead, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Come farò, Enzano? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi lanceremo un V.C.N. monoposto. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del V.C.N. A quel punto in poi dovrai mutare. L'unità delle porte speciali ad alta tecnologia Foxhound. I tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono sei membri della Foxhound coinvolti in quest'azione terroristica. Sigomantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Ikoi Octopus, maestro dell'inganno. Volcan Reve, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo il comandante. Il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me. Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. Non aspettare il demianico più sòa, Grazie a tutti. 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 Salve ragazzi, sono DragonDavid89 e oggi vi porterò come gameplay Metal Gear Solid. Iniziamo. Bene, allora, qua sotto c'è qualcosa. Ah, c'è una razione. Ok, qua non ci può andare. Andiamo, che c'è? Che c'è? Che c'è? Andiamo di qua sotto. Ok, qua c'è, qua non c'è nessuno. Attenzione. Attenzione. Ai, ai, ai. Corri, 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 corri. Andiamo di qua. Non venire di qua. Ah, non venire di qua. Non venire di qua. Cazzo. Cazzo. Sì, scappo di qua. Ai. Snake, qui c'è un ascensore che ti può far salire al piano terra. Devi solo aspettare che arrivi l'ascensore. Nel frattempo, nasconditi da qualche parte. Ok. Dove mi nascondo? Ci nascondiamo qua? Scusa a me, ci beccano qua. Che abbiamo qua, come... Abbiamo, sigarette. Lette di ingrandimento. La razza, ok. E quanto ci vuole? No. Mamma mia. Ahia. Aia. Corri, 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 corri. Eeeh, ciò che abbiamo fatto? Ok, cosa c'è zanima? Ed eccolo qui, Grandesnake! Metal Gear Solid! Ragazzuoli, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare like!